La musica è missione introspezione, è così? Sì, diciamo che questa cosa l'ho detta riferendomi alla composizione, parlavo di un periodo introspettivo perché per me è anche importante fermarsi per poter scendere ancora più in profondità nel proprio universo musicale perché la musica jazz è fatta di improvvisazione che è un elemento estemporaneo se vuoi, quindi sali su un palco e quello che hai dentro fondamentalmente lo tiri fuori. Invece introspettivo perché è anche importante saper comporre e quindi fare un lavoro più meditato, soffermarsi di più su alcuni elementi musicali che poi gettano le basi per poter invece dedicarsi alla parte più istintiva. Grazie. 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 Grazie.